Musica Buongiorno, bentrovati, martedì 22 gennaio 2019, consueto appuntamento mattutino con la nostra rassegna stampa. Mattino 6, l'apertura come sempre dedicata alle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, iniziamo con il centro, l'edizione di Pescara, il titolo principale riguarda le tasse, tasse a rate, partono le domande, oggi la pubblicazione dei moduli per saldare i vecchi debiti con il comune. In alto, ovviamente grande spazio anche nei giornali oggi in edicola alla politica, parliamo delle regionali, centrodestra e scontro, ora partono le querele ed il Movimento 5 Stelle attacca la Lega. E poi Legnini, ormai un'invasione di destra e vice premier, ha parlato ieri il candidato, presidente del centro-sinistra, alla presentazione di alcune liste presso il comitato elettorale di Via Piave a Pescara. E poi ancora politica, parla l'arcivescovo della diocesi Chietivasto, Monsignor Bruno Forte, che si rivolge proprio ai politici dicendo rispettate i migranti. Andiamo a centro pagina, la fotonotizia Cassonetti della disperazione, così si fruga tra i rifiuti Pescara, così sopravvivono i poveri. E poi le altre notizie nelle cronache, Pescara il processo per le tangenti H, il PM chiede 7 anni per l'ex presidente dell'H, e poi Francavilla rischiò la vita, chiede i danni al comune. E poi lo sport, Pescara che dopo il pareggio casalingo con la Cremonese volge lo sguardo alla gara di domenica prossima a Livorno. Intanto è ufficiale il ritorno in bianca-azzurro di Alessandro Bruno, intanto Pilon aspetta un attaccante. Poi la cronaca ci porta a Moscufo in arresto cardiaco salvato dai colleghi, è accaduto ieri mattina. Vediamo anche la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto, sempre del quotidiano Il Centro, strade distrutte tra frane e buche. Chieti, ecco la mappa della viabilità rischio, nel degrado le arterie principali. E poi avevamo visto qualche istante fa sull'edizione di Pescara questa notizia, Francavilla battaglia legale dopo la paura salvata nel sottopasso allagato, chiede i danni al comune. Vediamo le altre notizie di Chieti e provincia, in questo caso siamo a Lanciano, pista ciclabile pericolosa scatta l'esposto. E poi Vasto, Punta Penna, l'area ZES non raddoppia. E poi siamo a Chieti, scuole aperte, i presidi svelano le nuove offerte formative. La cronaca, San Vito, rapina in banca e furto al panificio, colpo alla BPR da 4 mila euro a San Vito Chietino, a Vasto, cassa rubata, bancone incustodito. Vediamo la prima pagina di Teramo del Centro. La cronaca, in questo caso in primo piano, smantellato clan di Usurai, 5 arresti, Teramo taglieggiavano un imprenditore obbligandolo a fare false assunzioni. E poi la protesta per il teatro a Teramo, 12 condanne per l'occupazione dell'ex OVS. A Silvi, pieni di debiti, li salva la legge, anti suicidi beneficiari, due fratelli di Silvi e poi Roseto. Gruppo di tifosi aggredisce i giocatori. E poi ancora il calcio, il Teramo, che dopo la sconfitta con la San Benedettese, torna in campo questa sera al Bonolis nel turno infrasettimanale di campionato contro Limolese. Subito in campo, probabilmente l'ultimo arrivato, l'attaccante infantino. Poi vedremo anche il servizio. Poi andiamo a Sant'Egidio alla Vibrata, bimbo di due mesi colpito da meningite. Il lionato è ricoverato all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Vediamo la prima pagina di L'Aquila, Vezzano sul Mona, sempre del centro. Balconi crollati e tutto da rifare. L'Aquila e gli atti tornano in Cassazione per conflitto di competenza, prescrizione vicina. Poi siamo ad Avezzano, in questo caso cambia sede il centro per la salute mentale. Ancora Avezzano, effetto voto, grandi manovre in Forza Italia. E poi sul Mona, Magneti Marelli, riparte la produzione. All'Aquila, artisti non pagati, il sindaco Biondi si difende. L'Aquila, il sindaco, il primo cittadino, dice ci sono fatture vecchie, tre anni fa io non c'ero. Monta la polemica. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Ritroviamo l'appello dell'Arcivescovo di Chietivasto, Monsignor Bruno Forte. Votate chi rispetta il diritto di tutti e non taglia i servizi sanitari. E intanto il candidato Legnini, per quanto riguarda la coalizione di centro-sinistra, pensa già alla Giunta. Se vinceremo, Di Dalmazio sarà nostro assessore. Ieri la presentazione proprio a Pescara di questa unione di intenti, e non solo tra Legnini e Di Dalmazio, consigliere regionale uscente, nonché ex assessore della Giunta Chiodi. Poi vedremo anche in questo caso il servizio. Restiamo a parlare di elezioni. Di Marco sostiene Blasioli e Di Luca, l'ex presidente della provincia di Pescara, escluso dalla competizione elettorale, ha annunciato lo sostegno ufficiale per Blasioli, vice sindaco di Pescara, e per Valeria Di Luca. Vediamo le altre notizie. In prima pagina, medici pagati dalle case farmaceutiche, c'è la diffida. E poi ancora, prestite usura, gli interessi erano del 500%. Terra, un imprenditore costretto anche ad assumere i suoi aguzzini, blitz e arresti. E poi ACA, chiesti 7 anni per Di Cristoforo. E poi vediamo ancora meningite grave, bimbo di due mesi, ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona. Vediamo poi nella parte alta della pagina altre notizie, altri richiami di articoli che poi andremo a leggere insieme all'interno del giornale. Maestri abusivi sulle piste da sci scatta l'allarme a Passo Lanciano. E poi all'Alifoundri Avezzano a rischio 400 posti di lavoro. Infine il calcio. Pescara piace il bomber trotta del Sassuolo. Infantino firma con il Teramo. Vediamo la prima pagina del quotidiano. La città costretto ad assumere gli usurai. Imprenditore spremuto da Roma attraverso interessi, assunzioni fittizie e il dono di un villino. E poi ex OVS, 500 euro di sanzione e 12 che occuparono. Vediamo poi le altre notizie. Richiami di argomenti che poi troveremo come detto anche in questo caso all'interno del quotidiano della città. Di Dalmazio, ultimo passo del ritorno a sinistra. Ne abbiamo parlato prima, ne parleremo anche dopo vedendo il servizio. Roseto degli Abruzzi, il ponte di Fosso Canale sarà allargato. E poi Teramo, ecco tutti gli scrutatori, sono stati selezionati tra gli studenti e gli inoccupati. E poi la politica, PD Teramano a Brandelli nel giorno del voto al BIM. E poi Giuliano Valvoto, le regionali incrinano il polo civico. Infine il calcio, Infantino e Molese, il Teramo ora deve rialzarsi. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, andiamo a vedere l'edicola nazionale partendo dal Corriere della Sera. Il Fondo Monetario Internazionale bacchetta l'Italia e dice che il nostro paese è un freno. Salvini replica il vero pericolo. Siete voi, e poi migranti, Lite, Parigi, Roma. Andiamo avanti. Repubblica Italia-Francia, la rottura di Di Maio. L'Eliseo convoca l'ambasciatrice dopo le dichiarazioni ostili e irresponsabili del Vice Premier e di Di Battista. Una strategia costruita a tavolino dei Cinque Stelle in vista dell'Europea e la preoccupazione di Palazzo Chigi e Farnesina. E poi la signora del Fondo Monetario Internazionale, Cristina Lagarde. Roma rischio globale, tutto il governo l'attacca, fa solo disastri. Dunque polemica a distanza tra il Fondo Monetario Internazionale e il nostro paese. Vediamo anche il fatto quotidiano. Guerra del Franco, convocato ambasciatore Macron, se ne frega di morti in mare, attacca l'Italia per avere la Libia. Scrive il fatto quotidiano. E poi ancora soldi, navi e controlli. Il nuovo ricatto libico per battere cassa. Per meglio dire, ribattere cassa, come è scritto in questo titolo. Vediamo il messaggero nazionale. Caso Di Maio, strappo con Parigi. Le accuse del Movimento Cinque Stelle e di colonialismo scatenano l'ira del primo ministro francese Macron. Convocata la nostra ambasciatrice. Moscovisia all'attacco. La Farnesina, polemiche elettorali. Le tensioni complicano il caso Libia. E poi, il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime del PIL. Tria attacca, conto e noi freniamo le tensioni sociali. Andiamo in Afghanistan. La strage di soldati che allarma Trump. Talebani contro la scuola militare. 130 vittime. Tornando nel nostro paese, gli scogli del reddito. Pochi posti di lavoro. Collocamento al palo. Regioni in allarme. I centri per l'impiego funzioneranno a pieno regime. Solo in autunno. Vediamo anche la prima pagina del mattino. Di Maio scontro con Parigi. L'ira di Macron per le accuse del Movimento 5 Stelle su colonialismo e migranti. E poi, anche il calcio. Nella prima pagina del mattino, ovviamente, il quotidiano napoletano parla del Napoli. Gli Ancelotti per sempre. Il piano di De Laurentiis. Carlo Ancelotti lo vedete con il figlio Davide durante una gara al San Paolo. Vediamo anche La Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Nasce il partito dei clandestini. Vedete il titolo in alto. Gli altarini dei professionisti dell'accoglienza. E poi un altro titolo. Luxuria da lezioni di trans in classe. La RAI. Alla sbarra. Questa è la fotonotizia sulla prima pagina della Verità. E poi ancora Euro difesa immigrati e guerra. Con Parigi, lo abbiamo visto anche dai titoli degli altri giornali. Lo stesso titolo, almeno lo stesso tenore di titolo, sul quotidiano in manifesto. De Bello Gallico. Scontro con la Francia sui migranti. Parigi convoca l'ambasciatrice italiana. E poi, nel rapporto Oxfam 2018, le responsabilità delle politiche fiscali sempre più ricchi, sempre più poveri. Il sole 24 ore, ovviamente, punta sul rapporto del Fondo Monetario Internazionale. La frenata italiana è un rischio globale. Scontro con il governo. E poi arriva il piano per sbloccare i cantieri. Questo è l'altro titolo del Movimento 5 Stelle. Il tempo. Conte, taglie, vivori e tutte le ONG. Nel decreto sull'8 per mille. Cancellati i finanziamenti che le ONLUS ricevevano per i rifugiati. E poi a Roma, metro in tilt e la capitale si blocca. Guasti a ripetizione sulla linea e rallentamenti sulla Roma, Viterbo e Caos. Vediamo la stampa di Torino. Lega, Movimento 5 Stelle, il nemico e la Francia. I due vicepremier hanno strategie diverse, ma un avversario comune. Convocata l'ambasciatrice italiana a Parigi. E poi, battaglia nei cieli siriani, israele all'Iran. Ci difenderemo, focolai di guerra. In Medio Oriente non solo. Vediamo il prossimo quotidiano. Il secolo punto it. Sbarchi crollati del 1 gennaio. Immigranti sbarcati in Italia. Sono 155. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 2730. Lo rende noto il Viminale, in un momento, di forti polemiche. Siamo ad avvenire. Al mondo diseguale servono giuste tasse. Questo è il titolo di apertura del quotidiano di ispirazione cattolica. L'1% della popolazione a metà della ricchezza mondiale. Le disparità in aumento. E poi, anche su avvenire, troviamo l'Italia all'attacco di Francia. Fondo Monetario Internazionale. Scontro con Macron sull'Africa sfruttata. Replica al fondo che critica Roma. Questo era l'ultimo quotidiano dell'edicola nazionale. Torniamo alle pagine del quotidiano Il Centro. Per ripartire da pagina 2, ovviamente, lo dicevamo prima, politica sempre in primo piano. Man mano che ci avvicineremo all'appuntamento elettorale del 10 febbraio, dunque meno di tre settimane. Vediamo cosa accade in casa del centro-destra. Rotondi e Bellachioma partono alle querele. E intanto il candidato Marsiglio frena e rimette il simbolo UDC di Cidea. Ma non basta per calmare la rabbia interna e pagano di Forza Italia dallo stoppo accesa dell'Udc rispetto, dice, per la sindaca di Nino. In basso il Movimento 5 Stelle parla la candidata presidente del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Chi vota Lega dice ci consegna a Roma. Vediamo anche l'altra pagina. Andiamo in casa del centro-sinistra. Legnini, l'Abruzzo invaso da vicepremier è destra. Il candidato accusa sono armi di distrazione di massa e da Marsiglio spunta storace. Di Dalmazio afferma, che ha ufficializzato il suo appoggio proprio a Legnini, il nostro progetto è rivoluzionario. Ecco Abruzzo in comune. Di Dalmazio che potrebbe entrare in giunta, anzi entrerà sicuramente in giunta, lo ha detto Legnini, se Giovanni Legnini, l'ex vicepresidente del CSM, dovesse vincere le elezioni ed essere il nuovo presidente della regione Abruzzo. E noi proprio su questo argomento andiamo a vedere il primo servizio proprio sulla conferenza stampa di ieri mattina a Pescara per questo apparentamento, questo appoggio di Dalmazio alla coalizione di centro-sinistra che fa capo proprio a Giovanni Legnini. Vediamo. La coalizione di centro-sinistra si allarga con l'arrivo di Mauro Di Dalmazio che nel proseguimento del suo percorso politico iniziato già da tempo abbraccia ufficialmente la candidatura dell'ex vicepresidente del CSM Giovanni Legnini che in caso di vittoria avrà nella sua squadra proprio il consigliere regionale uscente. Abbiamo definito un campo coeso, forte, io questa mattina ho annunciato la mia volontà di avere al mio fianco quale componente della squadra di governo Mauro Di Dalmazio, sono io il collante di questa coalizione che si ha in mente delle culture progressiste, liberale, moderate, con alcuni candidati provenienti dal centro-destra con un progetto politico, un programma definito, chiaro, sottoscritto da tutti. A noi interessa dare un governo forte, autorevole per l'Abruzzo, lottiamo per le ragioni degli abruzzesi, abbiamo definito un progetto con gli abruzzesi e per gli abruzzesi, altri, i due vicepremieri che stanno invadendo la nostra regione, che sembra essere diventata la loro occupazione prevalente, vogliono politicizzare questa competizione elettorale. Ci dicessero quali sono gli impegni per la nostra regione, noi li abbiamo assunti e li rispetteremo. E Di Dalmazio, che nella precedente legislatura era stato assessore della giunta di centro-destra guidata da Gianni Chiodi, spiega così la sua scelta. C'era la necessità di creare uno schema che fosse realmente civico e quando dico civico cioè che prendesse tante risorse della società nel mondo dell'associazionismo, del lavoro, delle imprese e le trasformasse in impegno politico. Questo è stato fatto e oltre a questo c'è stata questa apertura straordinaria per la creazione di un campo democratico, di un campo che accomuni le culture cattoliche, liberali, anche tradizionalmente di centro-destra, progressiste e da queste differenze vengono fuori sintesi e strumenti per governare questi processi. Ancora politica, Tabacci presenta più Abruzzo, il deputato, il Movimento 5 Stelle dice Tabacci vive una crisi per promesse troppo avventate all'Aquila, Tabacci al fianco di Maurizio Di Nicola. Alfonso D'Alfonso, il simbolo DC disonorato dalla destra, parlano gli esponenti di eccentristi per l'Europa. Andiamo avanti, vediamo anche l'altra pagina, pagina 4, il messaggio dell'Arcivescovo della Diocesi Chietivasto, Monsignor Bruno Forte, che si rivolge proprio ai politici alla vigilia delle elezioni. Rispettate i migranti, il monito che richiama le parole di Papa Francesco, sia alla carità, no al rifiuto del diverso. Parliamo anche di sviluppo, credito e occupazione, ne parla Confesercenti in un confronto a Sulmona con i candidati. Cambiamo poi argomento, andiamo nella parte bassa della pagina, autismo, 8 domande ai candidati, salute, inclusione scolastica, lavoro, cosa farà chi governerà per i prossimi 5 anni? Dunque si parla di sanità, di salute e di queste 8 domande che i malati di autismo e i parenti, chi assiste proprio a questi malati, rivolge ai candidati presidenti. Siamo alla pagina della Regione Abruzzo, sempre dal quotidiano il Centro, WWF in azione, 25 nuove guardie zofile dei parchi, sono state presentate ieri a Pescara e poi Confesercenti, oggi arriva la Presidente nazionale Patrizia De Luise. Artigiani sbloccati fondi, salva, imprese, Giangiulli e Gasbarro sono i finanziamenti di crediti, di credit fidi con tassi agevolati della durata di 7 anni. Andiamo ancora avanti, Farchi, il Centro premiato a Fara è il paese simbolo delle tradizioni, proprio di questa tradizione delle Farchi. Siamo alle cronache dalle nostre province, partiamo da Pescara, ritroviamo l'argomento del titolo principale, proprio dell'edizione di Pescara del Centro, tributi scaduti, come mettersi in regola, tasse via alle domande per pagare a rate. E poi, imposte non dovute sì ai rimborsi, gli uffici del Comune restituiscono 42 mila Euro ai contribuenti. E poi politici malati, salta il Consiglio Comunale a Pescara, assenze per l'influenza, la maggioranza non ha i numeri per votare. Il processo per tangenti, ACA, chiesti 7 anni per l'ex Presidente, il PM vuole la condanna di Di Cristoforo e del direttore tecnico livello per corruzione, turbativa d'asta, sentenza il 25 marzo. La Procura, il numero 1 dell'azienda, agiva da Capo Supremo, è tutto a proprio beneficio, questo quanto dichiarato dalla Procura. Andiamo avanti, asilo di Zanni, via libera ai lavori, la Giunta Vare, il progetto di messa in sicurezza dell'Istituto CP in via dalla Chiesa. Emergenza a povertà anche a Pescara, dormitorio affollato raddoppiati senza tetto via lago di Sant'Angelo. In pochi giorni il numero degli ospiti è salito a 60. Bicchiere e cartello in mano, ecco dove si chiede l'elemosina. E poi disabili gravi aiuti per le famiglie o là in bandi per accedere ai benefici previsti, assistenza domiciliare e trasporto. Cassonetti come Bancomat, così scatta l'assalto ai rifiuti. Bande di disperati alla ricerca di oggetti preziosi, rame, ferro e televisori. La figlia di Michetti, le sculture di papà in un sottoscala, l'aila terzogenita dell'artista Vicentino Michetti chiede al Comune di dare degna sistemazione alle opere, ora al Museo Colonna. E poi scritte razziste in 150 al presidio in piazza, dopo il messaggio lasciato fuori dalla sede della CGL Abruzzo Molise di Pescara, i sindacati chiedono al prefetto un vertice sull'immigrazione. Guobadia, ora mi sento più forte, il responsabile dell'ufficio migranti parla di invidia e di odio verso il suo lavoro. Scritte razziste, proprio erano state lasciate nei giorni scorsi contro l'esponente della CGL che si occupa proprio dell'ufficio migranti del sindacato. Andiamo avanti, musica e pattinaggio per non dimenticare Jennifer Sterlecchini, sabato al Palazzetto dello Sport di Valenzuca a Francavilla, evento in ricordo della 26enne uccisa nel 2016. E poi in basso le luci d'artista conquistano gli stranieri, in Abruzzo i turoperi europei e libanesi, incontri con Quaralda Albergatori alla Camera di Commercio. Siamo alla pagina di Montesilvano, sempre dal centro, zona Grandi Alberghi, la protesta, taglio di alberi e potature selvagge, denuncia dell'Associazione Civitas Ambiente e Cultura, la Presidente di Costanzo, manca un piano comunale del verde. E poi giochi in plastica riciclata per due scuole, altalene e casette, nuove arredi nei giardini della Dezelis e della Di Blasio per una spesa di 10.000 euro. Roberta da Via Vestina a Sanremo, l'acconciatrice d'Olimpo e tra le parrucchiere ufficiali del prossimo festival della canzone italiana che si terrà proprio ovviamente a Sanremo. Parcheggio De Cecco, lavori per 150.000 euro, siamo a Città Sant'Angelo, niente più allagamenti, a 15 anni dalla sua realizzazione il Comune interviene sulla manutenzione dell'area alle spalle della collegiata. Vediamo poi in basso Spoltore Piazza Dal Benzio, svelati i pannelli di Igor Cascella. Proseguiamo, siamo a Francavilla al mare, dal dramma alla battaglia legale salvata nel sottopasso allagato, vuole il risarcimento dal Comune. Francavilla, l'avvocato di Antonina Zappalorto, chiede i danni fisici e morali e quelli per l'auto finita in acqua, ma l'amministrazione non ci sta, le barriere erano visibili. La signora aveva piena contezza della situazione. Proseguiamo con la prossima pagina che ci porta nel Pescarese a Moscufo, dramma nel piccolo centro in provincia di Pescara, va in arresto cardieco salvato dai colleghi, l'operaio comunale fa in tempo a chiedere aiuto, interrotta la giunta, dipendenti in azione con massaggio e defibrillatore. E poi Torre dei Passeri, due nuovi bus dalla prossima settimana dopo la petizione delle famiglie, tua mantiene l'impegno, ieri l'annuncio. In Comune, Penne, centro sportivo, bando di gestione, stabilite le linee guida per l'affidamento dei campi da tennis e da calcetto. Siamo a Chieti, alla pagina di Chieti, ma per meglio dire della provincia, perché siamo nell'area frentana, San Vito Chietino ha salto alla BPR, banca rapinata prima della pausa pranzo, due banditi armati di pistola, forse giocattolo in fuga con 3-4 mila euro. Nei locali il direttore, un'impegata e due clienti. Siamo poi a Vasto, cassa rubata al panificio, nessuno è al banco, uomo entra nello sfisio, forse per rapina e riesce a impossessarsi dei soldi senza minacce. Ancora Vasto, rapina al Planet, volto ripreso al bandito, il colpo sulla circonvallazione, poi Lanciano, pista ciclabile, esposto sulla sicurezza. Proseguiamo, siamo ancora a Lanciano, niente piazza concessa a Salvini, Pupilo, il ministro rispetti le leggi, continua la polemica dopo il comizio del vicepremier tenuto al Ciac City e non davanti al Comune, e dunque polemica proprio con l'amministrazione comunale. Andiamo più in basso, la squadra si allena dopo l'intossicazione, siamo a Montazzoli, il dirigente Carapello, la paura è passata, ma da tessa ellite sulla funzione dell'ospedale. Andiamo poi a Fondo Pagina per vedere un'altra notizia, auto distrutta dal Capriolo, paga la Regione, l'ente condannato per un incidente a Casali Incontrada, la sentenza, nessun segnale lungo la strada. Siamo a Teramo, maxi operazione 5 arresti, false assunzioni per pagare gli usurai, un imprenditore edile, suoi familiari vittime del clan Rom dei Campanella dovevano estinguere i debiti, con le buste paga, poi vedremo anche un servizio, i soldi erano murati nella villa sequestrata, nella residenza di Morrodoro del clan Carabinieri e Finanza hanno trovato 120 mila Euro in una parete. Proseguiamo la cronaca Sant'Omero, bimbo di due mesi colpito da meningite, Sant'Egidio sì è vero, questo era il riferimento proprio al centro vibratiano, il piccolo di Sant'Egidio ricoverato all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. I medici sono fortunatamente, moderatamente ottimisti per un miglioramento delle condizioni del bimbo Nereto, auto in sosta distrutta da un incendio e poi Giulianova smurata alla cassaforte della villa dei Marcozzi, Giulianova Ladri nella casa dei titolari di Marcaffè e poi siamo a Isola del Gran Sasso dove si piange il giovane emigrante pakistano morto per un'emorragia celebrale, in tanti si sono mobilitati per aiutare la sua famiglia. Siamo a Silvi, le vittime della crisi, due fratelli salvati dalla legge antisuicidi, imprenditori truffati da un socio all'estero, accumulano debiti per 2 milioni ma si mettono al sicuro con 100 mila euro. Pineto quasi pronta, la rotonda sulla strada statale 16 e poi ancora Silvi, il comune stanzia 70 mila euro per il verde, pista ciclopedonale invasa da automobili e sabbia. Siamo sempre a Silvi Marina. L'Aquila, scandalo al progetto case, inchiesta balconi crollati, nuovo stop, conflitto di competenza tra l'Aquila e Piacenza, deciderà la cassazione e poi cronaca, rubate auto di due pompieri, furto in appartamento all'Aquila, scoppito, tre cavalli investiti da un treno, morti gli animali. E poi sanità, screening gratuito alla mammella, una paziente convocata due volte senza esito, il manager ASL, niente radiologi, fino al primo febbraio. Proseguiamo, siamo alla pagina di Avezzano, sempre dalle colonne del centro, parliamo di sanità, edificio nel degrado, parliamo del centro di salute mentale che cambia sede, trattative ASL per risolvere i disagi di centinaia di pazienti marsicani, si punta al trasferimento in un'ala del Noesis. Siamo poi a Sulmona, Magneti Marelli, riparte la produzione, lo sciopero era scattato in segno di solidarietà con i 200 dipendenti della ex Blutec. E poi Prato-La Peligna, cinghiate tifosi del Nereto, tre nei guai, gli scontri al termine della partita persa dei Nerostellati negli ultimi minuti di gioco. Siamo arrivati alle pagine dello Sport, allora possiamo fermarci per una breve pausa, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6, andremo a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero e poi il quotidiano La Città. Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, siamo alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Forte il voto a chi rispetta i diritti di tutti, il monito dell'Arcivescovo di Chieti Vasto ai politici, alla politica in generale, alla vigilia del voto del 10 febbraio. E poi Legnini, in caso di vittoria di Dalmazio, mio assessore, abbiamo visto prima il servizio, siamo a Pescara, derby nell'urna tra PD alleati da Cuzzi a Balducci e Dincecco, in città grossi calibri a sostegno di Legnini e Lecivi che promettono sorprese. Di Marco, escluso dalla competizione, ha scelto di affidare il tesoretto di Consenzi ed Antonio Blasoli e Valeria Di Luca. Volti nuovi nel Movimento 5 Stelle, Pettinari e l'alfiere dei pentastellati, parliamo sempre ovviamente di elezioni e dietro la corsa di Sospiri, siamo nel centro-destra, schierati tanti bing in campo di incecco leghista per Marsiglio, Testa, Veri e Fiorilli cercano rivincite, salto del fossato della Santa Venere, ex assessore al Comune di Pescara, scritta razzista sul caso faro del Comitato per l'Ordine Pubblico, siamo sempre a Pescara, episodio di qualche giorno fa, siamo tutti Patrick Goodbia, in 200 alla manifestazione ieri a Pescara, il prefetto Basilicata assicura il suo intervento, il welfare ritrovato là in bandi del Comune per la vita indipendente e poi Fater Baricentro, nasce il polo dell'igiene della persona. Andiamo avanti, Tangenti H, un sistema criminoso, l'accusa chiede 7 anni di reclusione per l'ex presidente Ezio Di Cristoforo e 3 per l'attuale direttore Lorenzo Livello. Dura requisitoria del procuratore aggiunto a Narita Mantini, azienda zavorrata da influenze della politica e rapporti privati, ha detto il procuratore aggiunto di Pescara. La cronaca incidente, operaio salvato dal defibrillatore, ha avuto un malore ieri in Comune, è stato salvato proprio dal pronto intervento dei colleghi. Poi bussi il rebus della bonifica sotto gli occhi del ministro, al centro della missione del ministro dell'ambiente di Sergio Costa, la revoca dell'appalto per i siti 2A e 2B e dunque se ne parlerà proprio nel corso della visita del ministro in Abruzzo. E poi una notizia tra sport e imprenditoria, perché Super Mercedes per Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli ex Pescara, macchina acquistata presso la concessionaria Barbuscia di Pescara. Vedete proprio nella foto Francesco Barbuscia con Lorenzo Insigne e la nuova Mercedes GT4 acquistata dal giocatore del Napoli. L'Aquila perdonanza, artisti non pagati ma sciocco, bisogna aspettare, il saldo arriverà dopo la lunga trafila del versamento dei fondi Restart. Sarebbe grave se qualcuno avesse fatto credere che la procedura fosse rapida. Poi politica, in questo caso Tabacci, modello abruzzese, valido per tutto il Paese. E poi due vigili del fuoco finiscono il turno di lavoro e scoprono che i ladri gli hanno rubato le auto. Balconi caduti, rebus competenza territoriale, atti di nuovo all'Aquila. Parola alla Cassazione. Andiamo a vedere la prossima pagina. Leone di Porta Barete in Piazza Duomo. Siamo sempre all'Aquila. Iemonnanzi propone l'esposizione del reperto di Età Romana in occasione del decennale del terremoto. Adesso è abbandonato. E poi disservizi, mura civiche, illuminazione spenta. E poi ancora la cappella di San Bernardino e un restauro a regola d'arte. Questo è il tacquino dell'arte dell'Aquila. Siamo invece ad Avezzano. Nella Marsica. Li Foundry in 400 rischiano il posto. La FIOM ha sollecitato il vicepremier Luigi Di Maio durante una visita ufficiale allo stabilimento marsicano. Il sindacato si dice preoccupato per il presente e per il futuro e chiede un incontro urgente per dare soluzioni e prospettive. Roccarasso da giovedì via i campionati del mondo di Snow White. E poi sul Mona lavori alla scuola Capograssi il via tra febbraio e marzo. Ancora sul Mona San Raffaele ha chiesto un tavolo di confronto. Proseguiamo. Siamo alla pagina di Chieti del Messaggero. Lo stadio è un campo di patate. Basta. Giochiamo sempre fuori. L'allenatore del Chieti, Lucarelli, ha chiesto al club di disputare le partite interne in altri posti. Così compromettiamo il campionato. Il presidente si gioca solo se sarà agibile. Maielletta, maestri di sci, scatta l'allarme abusivismo. E poi ancora Polizia. Gabrielli oggi in visita alla questura di Chieti. Visita istituzionale del capo della Polizia. E poi Rotari al Museo Barbella Conferenza sulle unioni civili. Proseguiamo. La carica dei frentani alle regionali. Tra i candidati di Lanciano all'emiciclo per Legnini, anche tre assessori della Giunta Pupillo, Bendotti, Verna e Caporale. Pattuglia guerrita anche nel centro-destra per Marsiglio e da Campitelli a Di Campli. I sindaci Bellisario e Montepara. Vastese isolato, messa in sicurezza del viadotto Sente. Oggi si presenta il nuovo progetto Lutto ad Ortona. Addio al sindaco medico della loggia. Solenni funerali alle 10, questa mattina in Cattedrale. Armati di pistola rapinano la BPR di San Vito. I malviventi hanno agito all'ora di pranzo. Presi 4 mila euro lo sconcerto del sindaco. E poi i ciclisti investiti esposto a Ascom su Via del Mare a Lanciano. Allegrino sollecita controlli alla procura a chiuderla se priva dei requisiti. Siamo a Teramo, la pagina di Teramo del messaggero. Vere assunzioni ed una villa per gli usurai. Cinque arresti. I carabinieri e la guardia di finanza hanno individuato il dramma in cui era costretto un imprenditore di tossicia. La famiglia della vittima già minacciata di morte. In azione una famiglia rom truffata anche l'Inps. E allora possiamo andare a vedere il servizio su questa operazione portata a termine nelle ultime ore dai carabinieri e dagli uomini della guardia di finanza. Andiamo a vedere il servizio curato da Tania Bonnici Castelli. È iniziata all'alba l'operazione denominata Ghost Workers, lavoratori fantasma, realizzata da 40 carabinieri del comando provinciale di Teramo che hanno eseguito misure di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Teramo su richiesta della locale procura della Repubblica. Gli arrestati sono cinque, tutti di etnia rom, tre uomini e due donne, ritenuti responsabili a vario titolo di plurimi reati di usura, estorsione, truffa aggravata ed intestazione fittizia di un immobile. La vittima del sodalizio criminale è un imprenditore edile locale, costretto ad onorare debiti contratti con gli indagati con tassi di interesse usurari che sfioravano il 500%. L'imprenditore subiva continue minacce anche nei confronti dei propri congiunti ed era stato costretto ad assumere nelle aziende di famiglia, in maniera fittizia, tutti gli indagati, dando così una parvenza di legalità alle somme di denaro estorte. L'attività è iniziata ed è stata avviata da un'azione, un attento controllo del territorio e da una profonda conoscenza dell'ambiente da parte di una nostra stazione carabiniera, in particolare quella di Tossicia. Controllò nel 2017 due dei soggetti indagati gravati da precedenti specifici di usura. Da questo partì ovviamente un'attività di accertamento per verificare che cosa facessero loro sul territorio ed emersi in qualche maniera che fondamentalmente un imprenditore si trovava in grave difficoltà economica. Da lì l'avvicinamento dei carabinieri ai familiari e partì proprio l'indagine della collaborazione da parte delle figlie dell'imprenditore usurato. Ci siamo occupati della ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali dell'usurato e del suo nucleo familiare. Abbiamo poi accertato attraverso la copiosa documentazione contabile acquisita presso le serie delle società dell'imprenditore usurato, se fossero stati assunti gli autori del reato, quale controprestazione dell'usura presso queste società e inoltre abbiamo accertato a quale titolo un immobile intestato alla figlia dell'usurato fosse nella disponibilità di due degli autori del reato. La cifra estorta all'imprenditore Dile dagli indagati veniva calcolata applicando un interesse del 500% a quella ottenuta in prestito. Inoltre si configurano truffe anche ai danni dell'Inps per decine di migliaia di euro. Andiamo avanti, 12 artisti dell'ex OVS scatta la multa, volevano farne un centro culturale, ma intervenne la Digos, decaduto il reato di occupazione abusiva di locali. Sanità, salute mentale aumentano gli assistiti dopo il sisma. Siamo alla pagina dell'area metropolitana di Teramo e dell'area costiera. Meningite neonato all'ospedale, febbre alta, tosse e vomito. Il piccolo non ancora vaccinato da Sant'Omero è stato trasferito al Salesi di Ancone. Una forma non contagiosa della malattia non attivata alla profilassi per i genitori, dice il direttore sanitario di Falco. Torrente vibrata, moria di pesci, l'ex sindaco e allarme, inquinamento. E poi Giulianova, salita Montegrappa, ricoperta di siringhe, questa la denuncia che arriva proprio da Giulianova. Ancora Giulianova disegnano una svastica e svaliggiano la villa dei re del caffè. Proseguiamo, Roseto, lampioni cadenti, la città resta al buio. E poi Val Vibrata, lanas, alberi tagliati, perché troppo pericolosi. Siamo alle pagine dello sport, dobbiamo attendere però per parlare di sport. Andiamo a vedere invece le pagine interne del quotidiano La Città. Ripartiamo da pagina 2. Regionali, altro che accordo giallo-verde. Durissimo attacco della candidata Presidente Marcozzi a Lega e Salvini, piegati al candidato imposto da Meloni e Berlusconi. E poi Nazario Pagano contro Cesa per le affermazioni sulle liste Udc. E intanto si preannuncia una nuova andata di maltempo nella nostra regione con nevicate a quote medio-alte. Già dalla serata di ieri è arrivata la neve in molti centri interni della nostra regione. Siamo all'operazione Ghost Workers. Costretto ad assumere i suoi strozzini, imprenditore in difficoltà, chiede un prestito ai Rom che lo spremono con interessi. Assunzioni fittizie e l'acquisto di una villa, abbiamo visto poco fa, pochi istanti fa, il servizio. E poi 500 euro di multa agli occupanti dell'ex OVS. Di Dalmazio, ultimo passo del ritorno a sinistra, se vincesse Legnini sarebbe assessore regionale, abbiamo visto anche in questo caso prima il servizio. Lavori del Russo, disagi limitati e scuole aperte dopo un fine settimana di psicosi per una comunicazione incompleta, chiariti tempi, modalità e problemi dei lavori di oggi. E poi premiati gli alunni di dieci comuni alla Falcone Borsellino, la cerimonia per due concorsi letterari. Facciamo un passo indietro, solo per una notizia di servizio. In questo caso, pagina 5, vedete questo l'elenco dei nomi degli scrutatori terramani. Ieri mattina in comune il sorteggio tra studenti e inoccupati per comporre i seggi delle elezioni del prossimo 10 febbraio. Proseguiamo. Caso BIM, PD Terramano ridotto a Brandelli, questo è il titolo di pagina 7 del quotidiano La Città. Fieni e i progressisti di Red le cantano al segretario Minosse che oggi si candida alla presidenza del Consorzio dei Comuni. Marsiglio a Terramo alla convention dei candidati del Movimento IDEA. Domani alle 18 alla Polifunzionale la presentazione di Baldini, Canzio, D'Angelo e Rapali con il candidato governatore del centrodestra. Ancora politica Marsiglio e Trancassini al comitato di Rossella-Licursi presentati i temi della campagna con ricostruzione sociale e forum delle associazioni. In primo piano Cronaca, meningite, bimbo di due mesi grave ricoverato al Salesi di Ancona e poi Martinsicuro al via i lavori di messa in sicurezza della ciclabile Erosa. Dalle mareggiate in basso si torna a parlare di elezioni. Quaresimale apre il confronto con i cittadini vibratiani, il candidato consigliere apre una sede elettorale anche ad Alba. Adriatica, restiamo in Val Vibrata, Santomero, pesci morti lungo il torrente di Brata. Questa è la segnalazione. Siamo alla pagina di Giulianova e di Mosciano. Regionali Mastrilli attacca sulla cattiva eredità lasciata dal governo D'Alfonso e poi le regionali mettono in crisi il polo civico. La Verdecchia smentisce l'esclusione dopo la candidatura con Legnini. Caserma dei Carabinieri vietata agli utenti disabili. Il caso del Presidente dell'Annunziate riaccende la necessità di una nuova sede a Giulianova. Incontro in provincia. Siamo in provincia di Teramo. Parliamo delle ponte di Fosso Canale che sarà allargato. In arrivo gli espropri del progetto esecutivo che precede la fase di gara mentre si attende il nulla osta ufficiale dell'ANAS. Silvia avvia i lavori sulle piante della pineta del pescatore. Siamo a Roseto. Fratelli d'Italia prova a ricompattare il centrodestra. I battibecchi rischiano di offuscare l'ottimo lavoro dell'opposizione. E poi ancora politica. Silvi, il Movimento presenta. Silvi, Movimento 5 Stelle, i candidati delle regionali. In basso uffici del Ruzzo trasferiti in una struttura comunale. Siamo a Roseto spostati dai locali del centro anziani di via nazionale alla sede di via Mameli. Pagina della cultura. L'abruzzese che salvò Velia Titta. L'avvocato Gagliano Magno difese la moglie di Matteotti. Sarà ricordato alla camera. Lasciamo dunque anche le pagine del quotidiano La Città. Apriamo invece la pagina dello sport come sempre nell'ultima parte di Mattino 6. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani sportivi. Milan salto champion 2-0. Questo è il risultato con cui i rossoneri hanno violato Marassi battendo il Genoa. Iguain se ne va e Gattuso si riprende il quarto posto. Borini e Suso in gol. Show Paquetà in alto. Festa Juve solo Cristiano Ronaldo non si diverte. Bianconeri 3-0 al Chievo con un più nuovo sul Napoli. Sorrentino para un rigore a Ronaldo. Rossoneri come detto bel colpo a Genova. Il mercato poi in basso vedete Boateng al Barcellona. All'Anne Paris Saint Germain da 100 milioni. Corriere dello sport. Juve quota 100. Le prodezze di Douglas Costa. Emre Can e Rugani rimandano il Napoli a meno 9. E il Platek ride salutato Iguaini. Il Milan vince a Marassi e abbraccia il polacco. Infine tutto sport. Milan schiaffo a Iguaini. L'addio del Pipita non pesa. Vittoria per 2-0 dei Rossoneri a Genova. E poi record Romero. La Juve non si ferma più. A segno Douglas Costa. Emre Can e Rugani liquidato anche il Chievo. Siamo alle pagine dello sport del centro. Partiamo proprio, ripartiamo in questo caso dalla Serie A. Con la vittoria della Juventus per 3-0 con il Chievo. testa-coda classico di campionato prima contro ultima. E poi invece vedete, partita sicuramente più equilibrata, quella giocata ieri a Marassi. Il Milan vince con il Genoa per 2-0 e sale al quarto posto. E oggi proprio dal Genova arriverà il polacco Piatek. E poi la sorpresa di mercato. Boateng dal Sassuolo al Barcellona. Icardi verso il rinnovo con l'Inter. Parliamo del Pescara. Pescara che cerca di puntellare e rinforzare il suo organico in vista della seconda parte del torneo. Torna intanto in Biancazzurro, ufficiale già da ieri. Alessandro Bruno, ma il bomber non c'è. Il mediano lascia Livorno. E proprio Livorno sarà la prossima tappa del Pescara. Tuminello verso Lecce. Il Sassuolo blocca la partenza di Scamacca. E dunque Pescara alla ricerca di un attaccante. Anche, come detto, per cercare di rinvigorire il reparto avanzato. Vediamo anche altre notizie. Parliamo proprio della gara di domenica all'Ardenza di Livorno. Non ci sarà Brugman scolificato al suo posto. Dovrebbe giocare Canute Pilon. Spera nel rientro di Antonucci. Intanto ieri, nel posticipo del lunedì, pari e patta 1-1 tra Spezia e Venezia. Lasciamo dunque questa pagina che riguarda la Serie B. Parliamo di Serie C del Teramo, che questa sera torna in campo. Teramo che affronterà Limolese alle 20.30 allo Stadio Bonolis. Infantino l'ultimo arrivato Scalpita. Teramo qui per Maurizzi e Federico. Parla dunque il nuovo bomber che potrebbe debuttare questa sera proprio con la formazione emiliana. Ma è probabile che invece ci sia almeno inizialmente la panchina per l'ex giocatore del Catanzaro. Vediamo le probabili formazioni. Teramo 3-5-2 con Lewandowski in porta. Piacentini, Caidi e Fiordaliso in difesa. Ventola, Spighi, Proietti, De Grazia e Celli a centro campo. Zecca e Sparacello in attacco. Imolese e Rossi in porta. Garattoni, Checchi, Carini e Fiore a centro campo. Saber, Carraro e Gargiulo a centro campo. Mostil, Trequartista, Belcastro e De Marchi in attacco. Almeno queste le probabili formazioni della partita. Almeno secondo il quotidiano il centro. Ma come detto ieri c'è stata la presentazione ufficiale del neo arrivato in bianco-rosso. Possiamo andare a vedere il servizio. Diciamo che a Catanzaro in un anno e mezzo, il primo anno, abbiamo pagato tutti la confusione forse della società inesperta. perché tre allenatori, tre direttori, quindi non era semplice e soprattutto con una tifoseria esigente. Il primo anno penso che abbiamo pagato un po' tutti questo. Quest'anno forse mentalmente non sono mai andato a Catanzaro. perché già in estate volevo cambiare aria e sono rimasto lì, mi hanno fatto rimanere lì e quindi forse mentalmente non sono mai andato. Non è semplice sperare. C'è stato un allenatore, è arrivato un allenatore forse che non sposo al massimo la sua veduta di gioco. e quindi forse era meglio per la mia carriera andare via che rimanere. Hai un po' da farti perdonare segnato qui qualche anno fa? Sì, sì. Qualche anno fa lo ricordo benissimo, soprattutto perché qui è uno stadio bellissimo e quindi cercherò di farmi perdonare. Prenderò la 11. È una squadra molto giovane, di prospettiva, quindi poi con un mister sicuramente molto bravo e con un direttore che è bravo a scegliere i giovani, quindi che gioca molto bene a calcio. Infantino è un giocatore per noi importantissimo. credo che la piazza se lo meriti, ho visto tutti i gol di Infantino ed è un vero centroavanti. Forse è quello che negli ultimi anni non abbiamo avuto. Abbiamo un anno e mezzo di contratto con lui. anche lui è un giocatore che costa, però anche lui ci ha messo qualcosa di suo per poter indossare questa maglia. Maurizzi mi ha sempre detto che lui era suo figlio e quindi che non mi avrebbe mai detto di portarlo qui e quindi è stato una gran persona e quindi noi lo abbiamo portato perché non pensavamo di portare Infantino, perché per noi è un giocatore che forse per quello che oggi il calcio a Teramo non ci potevamo neppure permettere, però ci siamo sacrificati per dare quello che più noi potevamo fare perché avevamo anche altri profili. Penso che qualcos'altro faremo o uno o due in difesa, pensiamo e poi saremo a posto anche perché quest'anno abbiamo iniziato a costruire la squadra anche per il prossimo anno. quindi Federico credo che ci porterà questi due nuovi elementi e speriamo che li scelga come Infantino. E queste le parole del presidente del Teramo, del patron Luciano Campitelli, precedentemente aveva parlato proprio Infantino arrivato a Teramo dal Catanzaro. Parliamo di Serie D, crisi vastese, presidente Bolami piena fiducia a Montani, presidente Biancorosso si rivolge poi ai tifosi, stateci vicino, pronti a tornare sul mercato e intanto si va verso un altro rinvio della partita Matelica-Pinetto prevista per domani, vedete nella foto il campo del Giovanni Paolo II di Matelica completamente ricoperto di neve. Calcio di eccellenza, Chieti in vetta ma c'è la grana stadio e poi promozione Lanciano Quintigliani in vetrina, domani in programma quattro recuperi. Andiamo ancora avanti per vedere un'altra pagina di sport che riguarda il basket, alta tensione a Roseto, Sharks aggrediti dai tifosi, il club, immagini alla polizia e poi calcio a 5 dal 20 al 24 marzo in Emilia Romagna scatteranno le final 8 di calcio a 5, la Coppa Italia proprio della disciplina. Ancora tornando al basket parliamo di serie B, amatori primi, 250 biglietti a Chieti, domenica prossima alle 18 al Pala Elettra ci sarà l'atteso derby tra l'amatori Pescara ed il Chieti, derby tra l'altro di alta classifica. Atleti cabruzzese in festa domenica a Pescara, ecco i migliori del 2018 al Museo Colonna. Saranno premiati tra gli altri Sabatini, mantenuto Montanaro di Quinzio e Bilanzola tra le società, menzione particolare per la Gran Sasso Teramo. Andiamo a vedere le pagine dello sport del quotidiano Il Messaggero, bomber che Valzer esce il nome di Trotta e del Sassuolo l'attaccante che piace al Pescara per completare il reparto, ufficiale il ritorno di Alessandro Bruno dal Livorno, Tuminello sempre più vicino a Lecce, Scognamiglio e Capone in coro, punto importante, si parla ovviamente della gara con la Cremonese, Macin esterno, esperimento fallito, l'ipotesi del sole esterno di ruolo, seppure Mancino sarebbe stata forse più interessante, ne abbiamo parlato ieri sera, se ne è parlato ieri sera nel corso anche di replay la trasmissione di Enrico Rocchi. Siamo alla pagina della Serie C, Infantino Teramo segno io, l'attaccante partirà dalla panchina questa sera al Bonolis, lo dicevamo anche prima nella gara con Limolese, Out Persia, Ballottaggio, Spighi e Giorgia. Abbiamo visto prima le probabili formazioni secondo il centro, andiamo a vedere invece come il Messaggero presenta questa partita per quanto riguarda i due undici, Teramo, Lewandowski in porta, Piacentini, Caidi e Fiordaliso in difesa, Ventola, Spighi, Proietti, De Grazia e Celli a centrocampo in attacco, Sparacello e Zecca, Imolese, Rossi in porta, Sciacca, Checchi, Carini, Fiore in difesa, Saber, Carraro, Gargiulo a centrocampo, Mosti sulla tre quarti, Belcastro e De Marchi in attacco. Rugby, l'Aquila recupera pattuglia per domenica e poi vediamo la prossima pagina che riguarda il calcio di Serie D e gli altri sport, Bolzan cura magica del Real, parliamo del Giulianova riduce dalla vittoria di Avezzano e mercoledì c'è l'Agnonese, Fancavilla, Dos Santos e Bedin avanti così protagonisti del successo con la Vastese e proprio a proposito della Vastese Bolami blinda il tecnico Montani dopo la sconfitta del Valle Anzuca, Pineto archivia il pareggio Matelica chiede il rinvio della gara di domani proprio con la squadra di Amauro, Volley di Serie a due maschile, la Sieco si coccola Sorrenti e Fisconi, due baby protagonisti del successo che lancia Ortona al terzo posto solitario, coach Lanci, dice si sono rivelati preziosi. Vediamo poi altre due notizie, anzi una notizia, pardon, Roseto prende le distanze, siamo al basket dai suoi tifosi violenti e poi tornando alla Serie D notaresco in vetrina la migliore delle Abruzzesi nel Girone F, quarto risultato utile consecutivo con il terzo posto consolidato dopo il pareggio ottenuto sul campo della Iesina e chiudiamo con le pagine dello sport del quotidiano La Città, ecco qui la pagina relativa al Teramo, Infantino e Molese il Teramo deve rialzarsi, la punta prende la maglia numero 11 ma questa sera potrebbe partire dalla panchina. Maurizzi invita ad essere tutti uniti e poi i rosso-blu allenati da Dionisi sono la vera sorpresa del campionato, si parla proprio della squadra romagnola quarta della classe che può contare su ottime individualità ed una spiccata organizzazione di gioco, dunque i Molese avversario davvero temibile da prendere con le molle. Basket, stop e contestazione, Cagliari è indigesta, poco da salvare della trasferta degli Sharks contro una diretta rivale di classifica domenica ci sarà la gara con 100. Tornando al calcio, il calcio del campionato regionale di eccellenza, bilancio positivo per Alba Adriatica, Torrese e Nereto sugli scudi, dunque le formazioni Teramane. Tornando invece, passando invece alla serie D, Bolzan Raggiante è stata la vittoria dei ragazzi, il neo allenatore del Giulianova debutta con un successo nel derby di Avezzano e domani al Rubens Fadini ci sarà il recupero della gara con l'Agnonese che era stata rinviata per neve per i giallorossi del presidente Bartolini, l'occasione per guadagnare altri punti pesanti e proseguire la risalita in classifica. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6, la nostra rassegna stampa che tornerà domani come sempre alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi come sempre per averci seguito, vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del telegiornale, ma a proposito di sport, questa sera ci sarà Proteramo in posticipo per seguire il dopogara della partita del Bonolis con Limolese è davvero tutto, grazie e buona giornata.